Continua a scendere in Italia il numero complessivo degli artigiani intesi come titolari soci o collaboratori familiari che svolgono un'attività lavorativa prevalentemente manuale. Secondo uno studio della CGA di Mestre, meno 22% in 11 anni in Italia, in Abruzzo meno 29.2% e tra le province italiane con la flessione maggiore spunta quella di Teramo con un meno 30.6%. Secondo i dati divulgati, se questa tendenza non sarà invertita stabilmente non è da escludere che entro una decina di anni sarà molto difficile trovare un idraulico, un fabbro, un elettricista o un serramentista per la casa. La nostra regione maglia nera in Italia chiudono infatti in 13.000. Anche in provincia di Pescara la stessa sorte, ci dice il direttore provinciale di Confartigianato Fabrizio Vianale. Purtroppo noi sono anni che lanciamo questo allarme, i motivi ovviamente ne sono diversi, sicuramente le crisi economiche che si sono succedute negli anni, ma se proprio dobbiamo trovare l'elemento fondamentale di questo calo è una questione culturale, cioè bisogna risalire indietro di 30 anni quando magari tanti ragazzi, anche con attitudine tecniche, sono stati indirizzati a percorsi umanistici. In quegli anni è passata l'idea di un'attività, di un lavoro di serie B, il mondo dell'artigianato. In realtà il Made in Italy è quello che ci ha portato a un livello altissimo in Italia e nel mondo. Questo mestiere deve tornare a essere attrattivo, prosegue Vianale. Noi sia a livello italiano con la campagna dell'intelligenza artigiana contrapposta a quella artificiale e sia nel territorio dove abbiamo lanciato l'iniziativa dai banchi alle imprese e noi stiamo andando negli istituti tecnici a comunicare, sensibilizzare i ragazzi che non sanno ancora cosa troveranno dopo il diploma a far capire come da quella scuola sono usciti imprenditori di successo. L'artigiano prosegue Vianale, non è più quello che si pensa curvo a lavorare nel suo studio ma si tratta di tecnici altamente qualificati. ci sono ingegneri e architetti che hanno scelto di creare una piccola e media impresa artigiana. Nel settore dell'innovazione, nella creatività, nel design, nella moda, nella digitalizzazione è un mondo che ha bisogno di figure altamente specializzate altrimenti rischiamo di pagare un prezzo per la comunità da qui a dieci anni altissimo. E' ora che ci sia formazione incentivi all'apertura, alla creazione di nuove attività non si può pensare che un ragazzo si metta anche in proprio pagando quello che si paga attualmente deve essere una cosa fatta per step, bisogna incentivare il passaggio generazionale, rilanciare la bottega a scuola. Uno strumento conclude che dava opportunità di lavoro o di imprenditorialità. Grazie. Grazie.